Allora ragazzi e ragazze, sono pronta per la sfida del secolo. Ecco qua tutto il mio armamentario e vi mostrerò come realizzare un trucco in 5 minuti che io chiamo la Fast and Furious, ovvero la mattina quando devo accompagnare i bambini a scuola e mi rimangono giusto quei 5 minuti per truccarmi, uso queste cose per fare un trucco veloce, rapido e indolore. Allora partiamo subito, ho qui con me un altro telefono che userò come timer per farvi vedere che non barrerò assolutamente. È impostato su 5 minuti, adesso io premo avvia e inizierò velocemente con il tutorial. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Il timer è partito. Allora non ci perdiamo in chiacchiere, ho già fatto la skin care, prendo il correttore aranciato per nascondere un pochettino le mie occhiaie, vado con le dita per fare più in fretta, chiaramente. Poi se vi interessano i prodotti che sto usando, tranquilli che li lascerò tutti sottoscritti nella descrizione. Ok, ho speso questo leggermente aranciato, presto che tardi, prendo il correttore per l'occhio, ne metto un po' qua su questa palpebra e un po' qua su questa, poi 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 cosa faccio? Uso il pennello della Real Techniques, che no, non è della Real Techniques, perdona, della It Cosmetics e lo uso perché ha sia la parte per stendere il fondo, sia quella per stendere il correttore, perciò quando si è di fretta è un ottimo alleato. Allora, faccio velocemente l'altro occhio, ho il terrore che il timer su unì da un momento all'altro, ma no, ancora abbiamo tempo, abbiamo appena iniziato. Ok, vado anche un po' qua, uniformo al meglio la palpebra, ok. Adesso prendo il fondotinta, uso questo della Inglot, vi ripeto, non vi preoccupate perché vi lascio tutto nella descrizione sotto. Allora, lo picchietto come entro i punti e lo stendo con movimenti circolari, perché la mattina non mi interessa avere una base super super full coverage, in realtà non mi interessa mai avere una base super super full coverage, però al mattino picchiato diciamo che mi interessa avere un colorito più o meno uniforme, ok, io sto per non spaventare le persone che mi incontrano per strada, anche se con la mascherina diciamo che gran parte del lavoro lo fa la mascherina perché nasconde metà viso, quindi diciamo che siamo insomma aiutati in questo caso dalla mascherina che nasconde la nostra stanchezza. Allora, ripeto, steso velocemente il fondotinta, lo stendo anche un po' qua sul collo per non far vedere il distacco, ok, adesso a questo punto prendo direttamente la cipria e la vado a stendere su tutto il viso e anche sull'occhio, sulla parte sottostante dell'occhio. ripeto, questo è un video in cui devo riuscire a truccarmi da giorno chiaramente in 5 minuti, quindi, veloce veloce, fissato tutto, anche la palpebra, passiamo un po', procediamo con gli ombretti, prendo questa palette di Smashbox e andremo ad utilizzare la parte dei colori freddi. Allora, prendiamo uno sfumino, ok, così leggero, prendiamo il grigio, quello più chiaro, intermedio da transizione, e lo passiamo immediatamente qua, nella parte appunto della nostra palpebra dove vogliamo evidenziare la piega. L'ho sentito perché c'è proprio l'osso e portiamo verso l'esterno. Ok, riprendiamo un altro po' di colore e lo ripassiamo e sfumiamo sempre un po' verso l'esterno. Ok, faccio lo stesso nell'altro occhio. Deve essere un trucco veloce, non precisissimo, cioè cercherò di essere il più precisa possibile, però comunque considerate che ho 5 minuti a disposizione, quindi insomma la precisione passa un po' in secondo piano in questo momento. Poi, con un pennello piatto, tipo lingua di gatto, però cicciotto, vado a prendere il grigio un pochettino più scuro, e intensifico questa parte finale, sempre perché comunque bisogna dare un po' di definizione all'occhio, anche se abbiamo solo 5 minuti a disposizione. Dopo vado a sfumare, vedete, leggermente anche qua nell'incavo dell'occhio. Ok, e poi porto sempre il prodotto verso l'esterno e verso l'altro. Faccio lo stesso dall'altra parte, tendo un po' l'occhio, ma non lo tiro esageratamente, anche perché se lo dovessi tirare troppo non sarebbe più la forma del mio occhio, e quando lo andrei a rilasciare, ecco, non rispetterebbe gli stessi standard. Perciò va bene un po' tendere l'occhio, ma no, no, non ci credo. Sono già passati 5 minuti. No, ok, diciamo che è completamente fallita la missione. No, non è vero, mancano 10 secondi alla fine, sta già iniziando a suonare, praticamente sono ancora in alto mare, prendo lo shimmer, ok, lo passo anche in quest'occhio. Ho chiacchierato troppo come al solito, vediamo un po' che dice la sveglia. Dai, mancano 32 secondi alla fine, quindi forse ce la posso fare. Certo, questo suono non mi incoraggia, prendo la palette di Sephora in collaborazione con Elodie, prendo la terra, la sfumo leggermente qui e qui nel mio frontone, anche con il collo, vado anche qua, vado qua, sì lo so, è fastidioso il rumore della sveglia che si dice che sei già in ritardo quando tu già sai di essere in ritardo per conto tuo, comunque prendo la terra. Ok, cosa faccio adesso? Prendo il blush, sempre dalla palette di Elodie, con il pennello della stessa linea, non mi preoccupate se esagerate perché appunto si tratta in ritardo, poi andremo a sistemare, sorrido e porto verso l'esterno, sorrido e porto verso l'esterno, ecco, quando succedono questi piccoli guaio, vede da girate col blush, cosa fate? Semplicemente riprendete il pennello da fondo e andate a sfumare senza aggiungere il prodotto, in modo che l'effetto si sia meno da Elodie e sia molto più omogeneo. Allora, basta, perché mi avvisi? Non è vero, mancano tre minuti, perché stava suonando? Probabilmente ce l'ha dentro un'altra sveglia, non so che cosa ho combinato, comunque in realtà dice che ho ancora tre minuti a disposizione il timer, cioè, ne sono passati pochissimi, mi sono spaventata inutilmente. Allora, dicevo, abbiamo steso il blush, la terra, messo il colore luminoso nella palpebra, adesso prendiamo mascara, uso questo qui della neve, allora, qualcosa qui che mi fa fastidio, stendo il mascara, facendo sempre attenzione, perché se dovessimo sporcare ci sarebbe una tragedia, il boccale, perché appunto non abbiamo il tempo di risistemare il tutto. Perché facciamo queste facce quando mettiamo il mascara, è una cosa incredibile. ma ecco, non è il mascara il problema, è il mio cappello, ok. Ecco qua, mascara messa, della neve Cosmetics, colorosa, manca ancora un minuto e 44, direi che sono perfettamente in tempo, cosa faccio? coloro semplicemente un po' le sopracciglia. Ripeto, non amo avere le sopracciglia super definite, semplicemente uso questi gel per dargli un po' di colore, e per farle sembrare un pochettino più spesse, ma non vado a ricercare la perfezione, anche perché la perfezione non esiste, neanche nelle sopracciglia, e poi la mattina non ho tempo di occuparmi di quanto siano simmetriche le mie sopracciglia. Comunque, abbiamo fatto, manca soltanto il rossetto, scusate, metto sempre prima un po' di burro cacao per avere le labbra idratate, e appunto per fare velocissime, prendo una matita, questa è la neve che vi ho fatto vedere anche ieri, che è l'immortal, come colore, la pasta della neve classica, e invece di metterla soltanto come contorno, riempio tutte le labbra. Ecco qui. Ecco, con la matita otteniamo più o meno lo stesso risultato del rossetto, con la differenza che la matita si fissa, non andrà a macchiare la mascherina. Allora, ho ancora tre secondi a disposizione, questo è il trucco completo, ecco, questa è la vera sveglia che avevo impostato, cioè il vero timer che avevo impostato, ignoriamo, lo chiamo tutto, ok, perfetto, i cinque minuti sono passati, il trucco è riuscito, fatemi sapere cosa ne pensate, e ditemi soprattutto se voi siete un po' pigre come me, che vi alzate all'ultimo, e vi truccate appunto in cinque minuti, giusto per riuscire di casa in modo decente, oppure se preferite inunciare a un quarto d'ora di sonno, e dedicarlo al make-up. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti, tra l'altro ho ordinato qualche pezzo della nuova collezione di Elodie Persephora, se volete sapere cosa ne penso, scrivetemi sotto nei commenti, così genero un video apposito su questo. Vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, e vi auguro una buona giornata, una buona serata. Grazie a tutti, un bacione!